Negli ultimi anni il mercato dei monitor da gaming è cambiato parecchio. Prima i monitor da gaming con refresh, rette elevato, response time e basso costavano un occhio della testa e ti costringevano a fare rinunce in termini di qualità dell'immagine. Se giocavi in maniera competitiva eri costretta a scegliere monitor con pannello TN e dovevi di fatto rinunciare alla qualità dell'immagine che invece ti davano i pannelli IPS che però al tempo non avevano prestazioni sufficienti per il gaming. Poi ad un certo punto sono arrivati i primi monitor VA ed IPS da gaming che costavano un fottio di soldi ma che però ci permettevano da una parte di giocare in maniera competitiva e dall'altra di non fare troppi compromessi in termini di qualità dell'immagine. La situazione di oggi si è ulteriormente evoluta. I monitor top di gamma sono quelli con pannelli OLED velocissimi e gli modelli IPS e VA da gaming sono scesi tantissimo di prezzo. Ragazzi di fatto adesso i monitor ce li tirano dietro come si dice a Roma e in parte anche grazie alla tecnologia di Adaptive Sync generica sono arrivati sul mercato tantissimi nuovi brand di monitor per lo più sconosciuti. Se non avete chiari concetti come quello di Adaptive Sync, Digi Sync, Free Sync o DVRR vi consiglio di buttare un occhio a questo video in cui spiego tutto in maniera approfondita. Tornando a noi ci sono tantissimi brand poco conosciuti che vendono monitor veramente a 2 lire. Ormai si trovano pannelli da 1440p IPS da 165 Hz ben al di sotto dei 200 euro. Ma come sono questi monitor? Sono buoni o fanno scusa? Ragazzi ho passato gli ultimi mesi a testare monitor, ne ho 7 studio ancora da unboxare ma mi sono già fatto un'idea abbastanza chiara. La maggior parte di questi monitor economici da gaming per lo più fanno cagare. E quando dico questo non mi riferisco alle prestazioni con il gaming che alla fine sono quasi sempre valide se ragioniamo in termini di refresh rate e di tempo di risposta ma mi riferisco alla qualità dell'immagine. Ragazzi non immaginate quante monitor IPS da gaming economici ci sono sul mercato che a livello di qualità dell'immagine, riproduzione cromatica, angoli di visione e retroilluminazione fanno veramente schifo. Questo è un monitor elegito ufficio IPS da poco più di 100 euro e vi assicuro che ha una riproduzione cromatica e una qualità dell'immagine migliore di moltissimi monitor da gaming e 1440p che ho testato. E non parlo di impressioni personali ma di test effettuati con il calibratore e di vari software di misurazione. Quindi da una parte è vero, i monitor da gaming sono finalmente divenuti accessibili a tutti ma dall'altra parte bisogna avere pazienza, stare attenti, vedere recensioni ed informarsi in modo da evitare di prendere modelli che al di là del refresh rate per tutto il resto fanno cagare. Proprio per questo motivo un po' di tempo fa mi sono messo alla ricerca di modelli di monitor economici ma che nello stesso tempo avessero una qualità dell'immagine decente e durante la mia ricerca mi sono imbattuto in questo modello di MSI. Si tratta del G255PFE2. È un monitor da 25 pollici, rapidi PS, con 180 Hz di refresh rate ed un millisecondo di response time. È già inventi dall'estero ma arriverà anche in Italia verso la fine di marzo ad un prezzo consigliato di 179 euro. In realtà nei paesi in cui è già disponibile è facile trovarlo intorno ai 150 euro. L'ho testato per bene per alcune settimane e ho deciso di riportarlo sul canale perché mi è piaciuto parecchio. Ma prima lo sponsor di oggi. Ragazzi se è sembrato un nuovo pc vi serve una chiave di Windows. Unkis è il sito dove negli ultimi tempi acquisto tutte le mie licenze e mi trovo benissimo. Tra l'altro con il nuovo anno tutte le licenze di Windows sono state ulteriormente scontate. Ed in più se utilizzerete il mio codice sconto MAD avrete un ulteriore ribasso del 25% su qualsiasi prodotto che trovate sul sito. Il processo di acquisto è semplicissimo se per esempio vogliamo comprare una licenza di Windows 10 Pro clicchiamo su acquista, inseriamo il codice sconto e come potete vedere il prezzo da 20 euro passa a 15. Compilate la parte relativa al pagamento e dentro 5 minuti riceverete la vostra chiave di Windows. Per attivare la licenza basta andare nel menu sistema del pannello di controllo e cliccare su attiva Windows. A questo punto cliccate su cambia codice product key ed inserite la chiave. L'attivazione sarà immediata. Come al solito la prima cosa che faccio quando testo un monitor è verificare gli angoli di visione. Da un monitor IPS è lecito aspettarsi angoli di visione ampi, senza distorsioni ed eccessiva aberrazione cromatica. E come potete vedere l'immagine è perfetta anche con angoli di visione molto pronunciati. Mi piace il fatto che lateralmente il monitor sia senza cornici. L'intera superficie dello schermo infatti si estende fino alle due estremità laterali del monitor e questo a mio avviso migliora l'esperienza in game. Questo pannello è munito anche di speaker e la qualità come vi lascio immaginare non è un granché. Per me se ne poteva tranquillamente farà meno. Chi ha un pc da gaming utilizza cuffie oppure speaker dedicati. Per questo motivo per me nei pannelli da gaming i speaker interni non hanno proprio ragione di esistere. La seconda cosa che faccio è verificare la qualità costruttiva. Il monitor è costruito interamente in plastica ed è una plastica opaca nella parte frontale e questo è buono perché evitiamo riflessi mentre posteriormente troviamo un misto di plastiche. Ruvidi e non tanto rifinite che simulano l'alluminio satinato nella parte destra ed anche nere lucide. Nel complesso per buona parte il monitor è costruito con una plastica non tanto rifinita ma ci sta. Questo è un monitor economico e non ci possiamo aspettare le rifiniture di un modello premium. La navigazione nel menu può essere gestita tramite questo joystick posizionato posteriormente nella parte destra del monitor. Il joystick a livello di immediatezza lo preferisco rispetto ad altre soluzioni che prevedono software aggiuntivo ed il collegamento del pc al monitor tramite un ulteriore cavo usb. Per il joystick mi sarebbe piaciuto una rifinitura magari in gomma come si vede in tanti altri monitor. Altro aspetto per me importante sono le possibilità di regolazione ed in questo caso lo stand permette parecchia libertà. Possiamo ruotarlo lateralmente, alzarlo, abbassarlo ed addirittura metterlo verticale. Aspetto comodo per utilizzarlo ad esempio per la lettura delle chat durante lo streaming. Anche la regolazione del tilt frontale è ampia cosa ormai divenuta anomala. Moltissimi modelli che ho testato hanno una regolazione del tilt frontale parecchio limitata mentre in questo caso è più che sufficiente. In sintesi le possibilità di regolazione sono ottime e fanno venire meno la necessità di un braccio da scrivania che possiamo comunque utilizzare visto che presenta un attacco VESA posteriore da 100. Per quanto riguarda la connettività è basica come è lecita aspettarsi da un prodotto così economico. Abbiamo due porte HDMI, una DisplayPort 1.2, l'ingresso per il jack delle cuffie e stop. Nessuna presa USB per collegarla al computer o per la connessione di altre periferiche ma ci sta. Parliamo ora del pannello e concentriamoci sulla resa cromatica. Sulla carta questo pannello dovrebbe coprire il 99% dello spazio sRGB e l'82% di quello Adobe RGB. Quindi valori niente male se consideriamo il fatto che si tratta di un pannello ad 8 bit. Le prime impressioni fin da subito sono state buone e di test effettuati poi lo hanno dimostrato. Dopo un'attenta calibrazione ho registrato valori in linea con quelli dichiarati. Se ragioniamo solo in termini di spazio colore sRGB ho registrato una copertura del 98% quindi un valore molto vicino a quello del Mag 381 CQR Plus recensito un paio di mesi fa ma che costa molto di più. Tra l'altro mi è piaciuto anche il fatto che la resa cromatica fosse discreta anche out of the box. Consiglio sempre di calibrare qualsiasi monitor abbiate ma ho apprezzato il fatto che il pannello arrivi già con una resa decente e senza predominanti di colore troppo accentuate. Naturalmente vi consiglio di usarlo in modalità sRGB e di lasciare stare tutte le altre modalità di colore presenti nel menu professional. Così come vi consiglio di evitare le modalità di immagine nel menu gaming perché non fanno altro che aumentare la saturazione o accentuare alcune dominanti di colore e quindi modificare l'esperienza di gioco in maniera artificiale. Vediamo ora la retroilluminazione che è forse l'aspetto più importante di ogni pannello IPS. Questa tipologia di pannello infatti è soggetta a problemi con la retroilluminazione in quanto non si ha una retroilluminazione dedicata per ogni singolo pixel ma delle aree di illuminazione e per questo motivo possono essere presenti aloni nei bordi quando vengono mostrate immagini molto scure. Questo problema diventa particolarmente visibile nei pannelli molto grandi in prossimità degli angoli. Essendo questo un pannello da 24,5 pollici mi aspetto una resa buona. Ed infatti nell'esemplare che ho in prova il fenomeno è quasi assente ma il problema della retroilluminazione come detto spesso è molto legato al pannello che vi arriva. Insomma è un po' una questione di fortuna. Quindi quando ho comprato un monitor IPS dovreste controllare la presenza di questi aloni e se il fenomeno è troppo visibile chiedere il reso per farvi mandare un altro modello e sperare di avere più fortuna. Parliamo ora di gaming e come si comporta questo monitor? Ragazzi si comporta in maniera eccelsa. È un monitor fluido senza incertezze con cui avrete un'esperienza di gaming appagante. Questo è un monitor munito di modulo di adaptive sync generico e quindi dovremo abilitare la funzione di adaptive sync sia nel menu del monitor che nel pannello di controllo della scheda video. Nel mio caso l'ho testato con questo pc munito di 7800 xt e quindi dobbiamo intervenire sul pannello di controllo md. È semplicissimo e ve lo faccio vedere al volo. Andiamo nel menu gaming e poi su schermo e mettiamo il flag su vrr. Il vrr ossia variable refresh rate è un altro modo di dire adaptive sync. Se avete dubbi su come si attiva l'adaptive sync o sulla compatibilità monitor scheda video ci ho fatto un video dedicato che trovate tra le schede in alto a destra. Ragazzi vi ricordo che il refresh rate va impostato su windows altrimenti giocherete a 60 hertz. Ve lo faccio vedere su windows 11 perché tanto su windows 10 la procedura è praticamente identica. Cliccate con il tasto destro del mouse sul desktop ed andate su impostazioni schermo. Cliccate infine su impostazioni schermo avanzate e da questo menu a tendina scegliete il valore di refresh rate massimo. Nel nostro caso 180 hertz. Non sapete quanta gente con monitor veloci non imposta refresh rate su windows e senza saperlo gioca per mesi a 60 hertz. Tramite il menu gaming possiamo impostare tre livelli di response time. Normale, veloce e velocissimo. Impostando il livello normale, il refresh rate massimo ed abilitando l'adaptive sync ho notato qualche fenomeno di ghosting. Fenomeno che sparisce completamente impostando la modalità veloce o velocissima. Mi ha stupito il fatto che la modalità velocissima sia utilizzabile senza problemi. Come ho spiegato anche in altri video solitamente la modalità più veloce sia per il response time che per il refresh rate vengono inserite dai produttori di monitor solo per poter superare i test di certificazione ed ottenere il tanto desiderato millisecondo di response time ed il maggior valore di refresh rate possibile. In questo caso 180 hertz. Ma queste modalità solitamente non sono quasi mai utilizzabili perché portano con sé diverse problematiche. In questo caso la modalità velocissima invece è perfettamente utilizzabile ed è una cosa che capita raramente. Negli ultimi mesi ho testato parecchi monitor e non mi era ancora capitato di riuscire ad utilizzare la modalità di response time più veloce senza pentirmene dopo pochi minuti. Nei test effettuati ho registrato un tempo di risposta medio di 3,7 millisecondi che è un valore migliore rispetto a tanti altri pannelli marchettizzati un millisecondo che ho testato. Ragazzi il millisecondo scritto nelle confezioni dei monitor non lo raggiunge nessun pannello escludendo quelli OLED perché viene ottenuto dai brand in laboratorio ed in condizioni non di normale utilizzo. Discorso diverso invece riguarda i refresh rate. Allora se maxiamo i refresh rate ed il response time quindi impostiamo 180S e mettiamo il response time su velocissimo e giochiamo non ho notato problemi e questo è positivo. Ma ho notato problemi quando non si gioca e magari si fa un uso tradizionale del pc. Se per esempio ci sono immagini statiche come un foglio word o una pagina web fissa ogni tanto compagno in artefatti sullo schermo. Ho passato alcuni giorni ad analizzare il problema ho provato diverse schede video l'ho provato con altri pc e fatto diversi test. Finché alla fine ho realizzato che il problema sparisce totalmente impostando i refresh rate a 165Hz. E questo è il motivo per cui nelle varie immagini di copertura di questo video trovate i refresh rate quasi sempre impostati a 165Hz. Questa cosa non so se è un problema specifico del modello che ho in prova ma alla fine se ci pensate in realtà non è un vero e proprio problema. Perché basterà impostare i 180Hz prima di giocare ed abbassarli a 165Hz quando non si gioca e si fa un uso tradizionale del pc. Essendo questo un pannello da gaming è più importante il fatto che lo si possa sfruttare in game con il refresh rate massimo e il tempo di risposta più veloce senza avere problemi. Questa cosa vi ripeto non si riesce a fare con moltissimi pannelli ben più costosi e quindi è un aspetto positivo. Abbiamo 5 tipologie di mirini in overlay super comodi per sparare in game senza prendere la mira. Sono disponibili sia in rosso che di colore bianco. L'unica cosa un po' scocciante e che non mi piace è il fatto che quando accediamo al menu del monitor con il joystick qualsiasi informazione in overlay sul monitor sparisce. Quindi non possiamo ad esempio scorrere dal menu le varie tipologie di mirini vedendoli già a schermo. Ma dobbiamo sceglierne uno, chiudere il menu, vedere come si mostra a schermo e se non ci piace riaprire il menu e sceglierne un altro. E' una cosa sinceramente scomoda che non ho visto in altri monitor. Al di là degli aspetti tecnici di cui abbiamo parlato voglio fare con voi alcune considerazioni che riguardano il gaming. Ragazzi l'esperienza con il G255PF E2 è stata ottima. La dimensione di 24-25 pollici è la migliore per i giochi FPS competitivi e non è una mia opinione ma lo dicono i fatti. Moltissimi pro player si allenano e giocano con monitor di questa grandezza. Avere un pannello piccolo infatti vi permette di monitorare l'intero campo visivo senza muovere la testa o di avvicinarvi lo schermo se siete il tipo di giocatore a cui piace. E' chiaro un monitor da 25 pollici non va bene per tutte le categorie di giocatori. Se vi piacciono i giochi di simulazione, di strategia, GDR oppure privilegiate i giochi single player vi consiglio un monitor più grande in quanto con queste categorie di giochi si ha un'esperienza migliore con pannelli più grandi. Quindi a chi consiglio questo monitor? Allora lo consiglio a chi vuole assemblare e comprare oppure già possiede un PC da gaming di fascia medio-bassa. Questo è un pannello in 1080p da 180 Hz e quindi non ha senso usarlo con una RTX 4090 ed in generale con scade video di fascia medio-alta. Per quella tipologia di GPU servono monitor ben più costosi e performanti e soprattutto con risoluzioni più alte. Quindi il G255 PF2 è un monitor perfetto per chi ha un PC di fascia medio-bassa e predilige i giochi di tipo FPS e magari vuole provare a giocarli in maniera un po' più competitiva. Altro aspetto che mi piace è che si tratta di un pannello relativamente economico ma che allo stesso tempo ha una riproduzione cromatica di tutto rispetto. Migliore di tanti pannelli ben più costosi. Lo so qualcuno di voi starà pensando costa 179 euro e con quella cifra prendo un monitor da 1440p a 144 o 165 Hz. Ragazzi è vero ma quel monitor a cui ti riferisci molto probabilmente ha una resa cromatica che fa cagare una retroilluminazione penosa e se fosse per me lo butterei fuori dalla finestra. Ragazzi spero che questa recensione vi sia piaciuta. Se così è stato iscrivetevi al canale.